Ben trovati all'appuntamento con Dentro il consiglio. Il nostro settimanale che riprende dopo la pausa dedicata alle elezioni politiche ogni settimana, quindi entreremo all'interno del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Questi i titoli. Elezione 2022, vincitori e vinti, riflessione e analisi consiglieri regionali commentano l'esito della tornata elettorale. Poi una mozione presentata da Italia Viva è stata respinta, riguardava la Guardia Medica sul centralino notturno. E poi il gonfalone d'argento Alice Mariani, nuova età della Scala, partita da Massa a 13 anni dopo 10 anni trascorsi in Germania, vince un concorso indetto dal teatro milanese. E parliamo quindi parlando dell'aula che si è riunita lo scorso martedì 27 di settembre, proprio l'indomani dell'uscita dei dati definitivi delle elezioni politiche che si sono tenute in Italia il 25 settembre. Con i risultati ormai analizzati i consiglieri regionali commentano l'esito della tornata elettorale. Ascoltiamo. È evidente che in questi anni ci sono state tante, troppe contraddizioni. Noi contemporaneamente non possiamo essere per l'agenda Draghi e Contiani, non possiamo essere per la transizione ecologica e allo stesso tempo riaprire nuove discariche. Noi non possiamo essere un po' per il reddito di cittadinanza, un po' contro il reddito di cittadinanza. Noi non si può essere il partito che fonda il suo impegno sul tema dei diritti civili importanti e questo un po' mi preoccupa per il nostro Paese nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E allo stesso tempo non andare fino in fondo, non avere coraggio. Io penso che sia arrivato il tempo di una nuova classe dirigente, non è solo il problema di chi fa il segretario delle alleanze, ma qui c'è necessità di che i migliori nostri amministratori, chi lavora ogni giorno sul territorio, che ha fatto tanto, ha portato risultati importanti, perché è davvero surreale sapere che alle amministrative si vince, alle elezioni politiche si perde. Evidentemente c'è qualcosa, quindi questi buoni amministratori dobbiamo chiedergli un impegno anche nel partito, non solo per le proprie comunità, con la capacità di saper stare sempre all'altezza degli occhi delle persone, come avviene nel loro territorio. Noi dobbiamo parlare di diritti sociali, della necessità di dare risposte a chi soffre, alle ansie, alle sofferenze delle persone, alle loro paure che con il caro dell'energia stanno diventando ancora più forti, che la pandemia ha esasperato. Insomma, un modello completamente nuovo dove a guidare il partito ci vadano donne e uomini che abbiano coraggio, abbiano un'idea nuova di paese in un mondo che sta cambiando e che non siano lì solamente per garantire sostanzialmente se stessi. Ritengo però che il Partito Democratico abbia pagato la sua generosità da una parte relativamente al sostegno ai governi che si sono succeduti dopo quello giallo-verde, l'ultimo il governo Draghi che ha rappresentato anche autorevolezza ed opportunità per quanto riguarda il Paese, però sappiamo che quando poi si determina una situazione di criticità, di disagio dovuta magari a più motivazioni, l'ultimo quello che io ho trovato anche in campagna elettorale del caro Bollette, il riferimento va immediatamente a chi governa, quindi i partiti che hanno sostenuto il governo sono stati quelli più penalizzati. Dopodiché ritengo ci sia anche il tema delle alleanze, perché essersi presentati nei collegi nominali divisi è chiaro che ha fatto la differenza, basta andare a vedere i risultati. Io ho visto nel mio collegio uninominale, bastava essere alleati con una delle due forze che comunque si dichiarano far parte del campo progressista, quindi o i Cinque Stelle o il cosiddetto Terzo Polo il risultato sarebbe stato diverso. Credo poi che esista un tema, che è il tema congressuale per quanto riguarda il Partito Democratico, della riacquisizione di una sua visibilità, di una sua identità, di un suo profilo che sia rivolto maggiormente alle fasce della popolazione che più soffrono, che più vivono il disagio. Quindi i temi del lavoro, i temi del sociale, i temi dei diritti civili sono i temi di cui con nettezza e con chiarezza il Partito Democratico si deve riappropriare. In Toscana un dato straordinario è essere al 10%, denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte, dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro, che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio, per quanto riguarda la gestione della sanità, che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale, è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti. Partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni. Io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, sia in agrosseto che comunque ha bisogno di risposte importanti. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina. La pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo, auspicone l'interesse della regione e di tutte le province toscane, che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi perché il Governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col Governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col Governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al Governatore Gianni, qualora si volesse far finta che il Governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa perché la Toscana è l'ultima delle roccaforti dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana. Penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Sicuramente decidono gli elettori e il risultato non possiamo dire che sia stato dei migliori. Abbiamo ben chiaro che probabilmente i cittadini sono sfiduciati e avranno bisogno con questo Governo di centrodestra di una Lega che riesca a fare la Lega. Quindi con i suoi uomini, le persone preparate che noi abbiamo all'interno del partito, cercare di lavorare per andare a rispondere alle esigenze dei cittadini e riacquistare quella fiducia che in questo momento hanno perso. Per me il leader Matteo Salvini non è assolutamente in discussione. Noi paghiamo lo scotto di un Governo fatto col centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, un Governo di emergenza. Probabilmente i cittadini non hanno capito le motivazioni che ci hanno portato ad entrare in quel Governo, ma però siamo sicuri che andando ad allinearci a quelli che sono i nostri alleati storici, quindi con un'affinità anche di idee e di proposte, riusciremo a fare bene e questo servirà anche al partito per riacquistare la fiducia degli elettori. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Liccheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi a rappresentarci, persone di esperienza, di grande esperienza e di valore. Partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista, siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. Entriamo quindi nel vivo dei lavori d'aula, evitare che la riorganizzazione complessiva del servizio di guardia medica produca conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani e comporti il depotenziamento del ruolo della professione medica, ritardi, diagnostici, intasamenti del pronto soccorso e del 118. Era questo l'impegno chiesto alla Giunta regionale dalla mozione presentata dal consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli, che però è stata respinta dall'aula dopo una discussione molto partecipata. È una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione Toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo alla Giunta per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccato, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza, di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante, sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata, dispiace che il Partito Democratico da solo contro tutto il Consiglio regionale abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117. Quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è da ristrutturazione tutto il tema delle casse delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24. Quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto. Quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche. L'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica. Quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo. Sia perché la procedura che sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. Nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico su pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamano il 118 ebbene quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica. La maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più, il Consiglio l'ha certificato così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche. L'orgoglio e la soddisfazione di vedere una Toscana nel ruolo di prima ballerina alla scala di Milano che con il suo talento, la dedizione al lavoro e la tenacia incarna un modello positivo. Con questa motivazione che il Presidente del Consiglio regionale della Toscana e componenti dell'Ufficio di Presidenza hanno deciso di conferire il gonfalone d'argento ad Alice Mariani, nuova età della scala di Milano. Come etuale lei è partita diciamo così però da massa all'età di 13 anni, dopo 10 anni trascorsi in Germania ha realizzato il suo sogno ovvero quello di vincere un concorso internazionale indetto dal teatro milanese, un traguardo peraltro prestigioso che la proietta nel firmamento delle etuale internazionali come ad esempio Carla Fracci e Oriella Dorella. Sono davvero orgoglioso che oggi il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, per questo ringrazio tutti i colleghi dell'Ufficio di Presidenza, venga conferito ad Alice Mariani. È un po' il segno della Toscana che vogliamo. Una ragazza nata in un piccolo centro, non nel capoluogo di regione, che grazie all'impegno, alla tenacia, alla fatica, anche ad anni trascorsi all'estero riesce a raggiungere un sogno, perché questo è un sogno per tante ragazze che provano ad emergere. Io sono davvero orgoglioso e mi auguro che Alice possa portare il Pegaso alato sul palcoscenico e possa volare in alto insieme a lui. Per me parlare non è così facile come ballare sul palcoscenico, per me quello è davvero il posto giusto per me dove mi posso esprimere, dove posso emozionarmi. Quindi è stato un percorso travagliato il mio, perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola. Sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania, pensavo fosse una piccola esperienza all'estero, invece è durata 10 anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga, però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare e quindi l'essere qui oggi nel mio paese, al Teatro alla Scala, con questa nomina di prima ballerina davvero mi rende una persona fortunatissima e felicissima. Per me la caratteristica principale per il nostro lavoro è la tenacia. Nonostante il talento sia importante, perché sicuramente il talento è la prima cosa che si vede, la prima caratteristica che si vede in una piccola ballerina, però la tenacia, la perseveranza nel nostro lavoro, lavorare ogni giorno non è facile e avere questa dote aiuta nel raggiungere gli obiettivi più ambiti. E questo era anche l'ultimo tema, l'ultimo argomento di questo appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni, le delucidazioni e gli aggiornamenti c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.